Controllare spesso i movimenti del proprio conto bancario, con un'attenzione particolare agli importi che vengono addebitati, perché, come spiega la Polizia Postale del Veneto, le truffe sono sempre dietro l'angolo e in questo caso possono sfuggire a occhiate distratte, perché gli importi non sono alti, tutt'altro, e quindi possono essere simili alle operazioni di tutti i giorni. Cosa è successo ed è stato segnalato da sempre più correntisti? Arriva loro una richiesta di addebito sul conto corrente di 19,90 euro, in pratica una domiciliazione bancaria con RID o richiesta di addebito diretto, che solo apparentemente era stata richiesta dal titolare del conto, ma che nella sostanza è stata autorizzata con i dati personali carpiti chissà con quale metodo. Una truffa bella e buona, esplosa nelle ultime settimane, è che ha portato alla Polizia Postale numerose segnalazioni dai titolari di conti correnti. Il RID è lo strumento più pratico per i pagamenti periodici dei servizi più comuni, come le varie bollette di gas, acqua o utenza telefonica. Il fatto che l'importo addebitato in maniera fraudolenta sia esiguo è tenuto basso dai truffatori proprio perché in questo modo gli utenti non possano notarlo. Dalla Polizia il consiglio più immediato per evitare di incorrere in questo tipo di frode è di controllare frequentemente la lista movimenti del proprio conto corrente e da questo punto di vista il fatto che lo si possa fare con frequenza e comodità al tempo stesso dal proprio computer o smartphone, grazie all'home banking, aiuta. In caso di anomalie va avvisata subito la propria banca, richiedendo la restituzione in conto della somma sottratta e la revoca della richiesta di addebito diretto.